Un ciao da Enrico e da Performance 4x4 Da oggi apriamo il nostro canale ufficiale YouTube Un modo per stare più vicini a voi attraverso consulenze tecniche, recensioni su tutto quello che riguarda il mondo dell'off-road Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di un accessorio molto molto utile per le vostre città Parliamo del Dystar Dash Panel che è disponibile per le nostre Jeep Wrangler in questo caso partiamo dal TJ quindi andiamo dal 1997 fino al 2006 e che cos'è il Dash Panel? Il Dash Panel è un porto oggetti molto molto utile secondo me per le Jeep perché? Perché se siete un po' come me che avete due telefoni, il telepass, le chiavi se avete un TJ non sapete mai dove metterle La Dystar ha fabbricato questo porto oggetti in ABS molto molto robusto che andremo ad appoggiare per capirci sopra il cruscotto dove abbiamo la nostra radio e con due semplici vitine lo andremo ad installare e vedrete che sarà un accessorio veramente utilissimo soprattutto anche un accessorio che quando la vostra ragazza non sa che cosa regalarvi a Natale o per qualche vostra festa fatelo regalare perché è veramente molto carino dopo andiamo a vedere installato proprio sulla nostra TJ e vi faccio vedere quanto è bello e funzionale questo ve lo lascio qui per una ripresa un pochino più da vicino avete il nuovo modello del Wrangler quindi dal 2007 al 2011 e poi dal 2011 al 2015 anche qui la Dystar ha fabbricato questo ottimo Dash Panel in questo caso abbiamo l'ultimo modello quindi quello che va dal 2011 al 2015 e è leggermente diverso ma questo modello invece di Dash Panel per il JK è sempre in un ABS leggermente più morbido al tatto è un po' più gommoso forse è un pochino più di design quello del TJ che abbiamo visto prima sembra un po' più robusto questo qua anche se in lui è molto utile perché ci dà la possibilità di andare a mettere qui magari il telefonino occhiali da sole o anche magari il telepass e ha una bellissima funzione che mi piace molto perché chi ha magari un GPS che sia TomTom, Garmin ora mi vengono in mente questi ha dietro la pallina per poterlo incastrare quindi è anche molto utile e molto carino vi ripeto si installano veramente in 5 minuti e vi garantisco che vi daranno tante soddisfazioni